Ciao ragazzi, un saluto da Zerba Bianconera. Allora, purtroppo oggi c'è stata una bruttissima notizia ragazzi. Alessandro e Quadrado sono positivi a Covid. Che bruttissima notizia ragazzi, brutta brutta brutta. Però vi auguro una buona corrigione e ci vediamo presto in campo ragazzi. Però per noi questa è veramente una bruttissima notizia, specialmente per noi. Perché domani sera giochiamo contro il Mila San Siro. E contro il Mila San Siro non dobbiamo fare lo stesso errore che abbiamo fatto con la Fiorentina. Ma dobbiamo avere la testa sul campo e vincere. Testa sul campo e vincere ragazzi domani sera con Mila San Siro. Especialmente dobbiamo giocare con determinazione, grinta e grande voglia di vincere ragazzi. Determinazione, grinta e grande voglia di vincere ragazzi. Forza ragazzi, forza. Bene ragazzi, con questo è tutto. Vi auguro una buona serata. Iscriviti al canale YouTube e seguitemi anche su Instagram su Zebra, Tattilo, Basso, Bianconera. E seguitemi specialmente sulla pagina Facebook di Zebra Bianconera. Fino alla fine, forza di Juventus. Buona serata a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.